Bruno Catanio, nuovo Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, qualche mese fa quando hai annunciato la tua scesa in campo, l'avresti immaginato? L'ho solo sperato, non potevo immaginarlo, anche se io avevo fatto anche delle proposte a Carlo Magri che ci tengo a dire rimane un mio amico anche se siamo stati avversari perché mi sarebbe piaciuto una cosa diversa, però è giusto che la gente decida, questo è stato quello che è stato scelto anche da lui, io ho accettato questa competizione, adesso sono strafelice, cercherò di fare del mio meglio alla Federazione Pallavolo che peraltro credo di conoscere molto bene e spero che anche quelli che magari non mi hanno votato potranno apprezzare il mio lavoro, io sicuramente ce la metterò tutta, tutta, assolutamente, questo lo posso garantire, lo faccio convinto di poter fare bene, spero che anche la mia squadra mi possa seguire in modo tale da portare avanti questo progetto, per il momento riesco a dire poche cose che sono sopraffatto dalla felicità, ho avuto tante manifestazioni d'affetto e quindi io non faccio che ringraziare un po' tutti quanti, grazie veramente di cuore, cercherò di meritarmi la fiducia che voi mi avete dato, che la maggior parte della gente che era qui tantissima, evidentemente vuol dire che hanno apprezzato quello che ho fatto prima e quello che ho detto oggi, grazie davvero a tutti quanti, grazie.